Ciao Marco, nella nostra azienda la compliance è fondamentale. Dobbiamo garantire la protezione delle informazioni sensibili e identificare rapidamente i documenti che le contenivano. L'intelligenza artificiale può offrirci una maggiore sicurezza? Certo Francesca, oggi la sicurezza sappiamo che è un tema fondamentale nelle aziende. Le AI è un po' come un guardiano, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Cosa fa? Scandaglia i documenti aziendali alla ricerca di informazioni sensibili e quando le trova può impostare dei flussi di lavoro automatici, ad esempio per modificare le autorizzazioni di accesso a quel documento. Guarda, credo che meglio di così non si possa neanche fare. Certo, molto interessante. Grazie Marco. Grazie a tutti.